E' la comunicazione visiva, in tutte le sue forme, ed in particolare il linguaggio del cinema e della pubblicità ad informare l'opera di Laura Ronca. Le immagini presentate in questa mostra virtuale offrono una visione del mondo molto attuale, che ci è facile, oserei dire naturale, fare nostra. E' il mondo come lo conosciamo attraverso il punto di vista del cinema, un mondo che, come insegna Derek de Kerkhove, osserviamo quotidianamente attraverso il brain frame della comunicazione visiva, il che al contempo è diventato per noi immediatamente riconoscibile e fruibile, perché anche noi parliamo il suo linguaggio. Questa immediatezza è ulteriormente facilitata dalla presenza dei brand, i marchi, che rendono il messaggio dell'artista ancora più riconoscibile, più immediato, più diretto. Ciò nonostante, ad una più approfondita analisi, la semplicità apparente svela la complessità sottostante. Sia perché le immagini si divertono a giocare con le metafore, l'artist drive, non a caso, è una strada sterrata ed impervia da percorrere. Sia perché non si accontentano della perfezione formale, ma si mettono costantemente in discussione. E così, la macchina da American Dream si ritrova in una discarica, pronta per la demolizione. Il gioco sottile che si genera tra immediatezza e complessità e l'ironia insite in questo gioco concorrono e creano il fascino di questa mostra virtuale.